Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita, da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Io sono Fabio Caressa e a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marchegiani. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Ecco le formazioni delle due squadre. Partiti Guaduasamoa Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare Peluso Magnanelli Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo Chiellini Chiedira De Sciglio Grande occasione Vuole il lancio filtro Occasione da rete Alfred Duncan E trova chance per tirare E c'è il gol Preparazione perfetta Conclusione perfetta E passano in vantaggio Sono partiti fortissimo Sono partiti fortissimo Magnanelli Verardi Palla intercettata Ottimo il suo senso della posizione Quaduasamoa Quaduasamoa Lancio lungo del portiere Lancio lungo del portiere Bell'intercettata Bell'intervento del portiere Vede libero il compagno Vede libero il compagno Non è andato lontano Non è andato lontano dalla rete È l'incubo di ogni difesa Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo E questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea Missiroli Matri Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto Ha spazio sulla fascia Dentro il pallone Teso Occhio al tiro Ottimo tentativo Ma non trova il gol Conclusione fuori di un soffio Peccato per lui Il tentativo era ottimo Pjanic Lungo passaggio in avanti Aleksandro Oggi autore di un assist Un po' di indecisione su da farsi Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia Effetto al cross Riesce ad intercettare Sono finiti i primi 45 minuti Squadre negli spogliatoi Primo tempo intenso E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco Il vantaggio di 1 a 0 Non dà nessuna certezza Devono dimenticarsi il gol E continuare a fare il loro gioco Come se fossero ancora sullo 0 a 0 Può tentare la conclusione Sono stati graziati Dopo aver perso palla in maniera incredibile E' stato bravissimo a sfruttare la situazione Questo significa essere presenti in campo Sono usciti dagli spogliatoi molto più agguerriti Possiamo aspettarci un gran secondo tempo Eccolo qui E' arrivato il momento del cambio Magnanelli Sulla destra Magnanelli Effetto e lancio sulla fascia Occhio a cross Palla intercettata Credo che questa sia la prima volta Che provano ad attaccare per vie centrali Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali Guaduasamoa Prova centralmente Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta Il difessore però ha trovato il tempo giusto Bel duello Azione fallosa E se ne avviede l'arbitro Brutto l'intervento Adesso inevitabile Arriva anche la sanzione Cartelino giallo per lui Barzagli E' con questa la palla Palla giocata alta sulla fascia Barzagli E' l'autore del fallo E c'è movimento Di a bordo campo E dunque Forza fresca in gioco Mattuidi Non sembra contento Ma l'allenatore non poteva rischiare Un secondo cartellino E restare con un uomo in meno E' proprio questo che devono fare Devono insistere Non hanno altra scelta Devono buttarsi in avanti Assolutamente Marchisio Prova a prolungare Occhio alla conclusione Sensi Quali sono le tue considerazioni Luca? Il vantaggio adesso Permette alla squadra Di gestire la partita Ma è un vantaggio Troppo esiguo Per pensare Di far trascorrere I minuti che rimangono Fino al novantesimo E basta La squadra deve comunque Cercare di riproporsi E cercare il secondo gol Si può E arriva anche L'ultimo cambio A loro disposizione Una sostituzione Che aggiunge sicuramente Qualcosa in più La davanti Peluso Higuain Di forza Higuain Vada solo C'è Higuain Tiro davvero da dimenticare Si valeva la pena provarci Anche se segnare da lì Non è semplice E' arrivato Il momento Dell'ultimo cambio A disposizione Della squadra Douglas Costa Avrà il compito Di creare occasioni In profondità Con le sue doti Di uomo assist Pallone alto e lungo sulla fascia Chiedira Si è fatto trovare pronto Marcature strette A quanto pare Le individualità forti Ne risentiranno Qui gioca gente Che può colpirti Quando meno te l'aspetti Non si possono concedere Inserimenti Dietro la linea difensiva Cerca la profondità Sulla fascia Traversione di Asamoah Che tentativo Fuori di pochissimo Matri Sensi Stiamo per entrare Nel tempo di recupero Qualche istante Sarà tutto finito I si roli Cerca il passaggio profondo Pericolo Tenta la conclusione E' finita Ci hanno provato Fino in fondo Hanno sfiorato Proprio nel finale Il gol del pareggio Ma non ce l'hanno fatta Una gara vincente La vittoria poteva andare Da una parte o dall'altra L'ha decisa Un solo gol